La Virtus perde 104 a 72 dal Fenerbahce, perde, viene asfaltata dal Fenerbahce, un termine che ho già utilizzato in altre occasioni parlando proprio della Virtus, perché delle batoste pesanti sicuramente i bianconeri le hanno prese, non ne hanno rifilate tante a essere sinceri, però hanno proposto anche qualche vittoria sorprendente. Perché la Virtus perde in questa maniera con la squadra turca? Perché la squadra turca gioca meravigliosamente, segna 104 punti, una palla a canestro entusiasmante, niente da dire, si comincia sempre dai complimenti a chi ha vinto, ma poi ci sono anche le colpe di chi ha perso. Eh sì, perché quando finisci anche a meno 39 qualcosina è sbagliato. Chi ha dato qualcosa? Bellinelli, 18 punti? Intanto io continuo a dire giocatore da firmare per la prossima stagione in tutto e per tutto, poi discuteremo di cifre, ma da firmare. Qualcosa da Schengheglia, qualcosa da Hackett, sia anche infortunato Paiola, non è una bella notizia, speriamo non sia un infortunio grave, ma rimane comunque il fatto che la Virtus non è esistita. Sì, 12 a 6 di vantaggio all'inizio, ma poi subito ricucito, parziale di 25 a 2, non c'è stata possibilità per la Vunera per fermare l'impeto turco e a quel punto Fenerbahce ha preso letteralmente controllo di una partita che non c'è più stata. Processi? No, no, perché come dico sempre il Fenerbahce costa molto più della Virtus come budget, la Virtus sta onorando l'Eurolega e può succedere di perdere in casa di una grande squadra, magari se non vai sotto di 39 è meglio. E quindi adesso si pensa già alle prossime partite, mettendo nel dimenticatoio quella persa, anche se in maniera pesantissima, e concentrandosi su quelle che arrivano, perché la Virtus è ancora lì, è ancora viva, vuole onorare l'Eurolega fino in fondo. Potrei dirvi che questa sera non l'ha fatto? Sì, ha completamente sbagliato partita, ma nell'ambito di un'intera Eurolega io credo che la Virtus abbia assolutamente onorato l'impegno. Stasera, malissimo.